Anderson pronti a saltare Inui Buona traiettoria, Valdés traversa Seferovic 3-1 per l'Eintracht Tutti fermi i giocatori dell'Inter Prima Valdés, poi la traversa E il tocco di Seferovic Che fa doppietta, che fa 3-1 Ispiegabile atteggiamento difensivo dell'Inter Soprattutto Obi Chiede il fuorigioco di Valdés Senza guardare il pallone Guardate, si ferma Seferovic Si coordina con il destro Segna due gol Fa un figurone davanti ai suoi nuovi tifosi Prima col sinistro Poi col destro, 3-1 Giustamente Vivic si arrabbia con i compagni Immobili Dopo la traversa di Valdés Grazie 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 Grazie